molto bene, molto bene, grazie mille, grazie anche per la presentazione, ma insomma è un sacco di passioni tu, vuoi mimarci qualcosa? Lo facciamo insieme, dopo, dopo, ubriachi, per tanto arriva quello di Caviro ci riempie di fiumi di vino, tra poco, allora, senti, voi state lavorando da ieri mattina, ma già sabato sera eravamo lì, ma eravate già pronti, a un progetto che adesso vorrei che ci raccontassi, perché ci sono 30 ragazzi chiusi, credo, in una stanza, giusto, divisi in sette gruppi, più di una, più di una stanza giustamente per, ovviamente, tutte le questioni covid, che stanno lavorando all'hackathon, Oh yes, allora, io come prima cosa ti volevo chiedere se ci racconti brevemente che cos'è l'hackathon Certo, è la settima edizione di questo hackathon Permettimi di dire una cosa, perché l'ho saputo ieri, perché il mondo, insomma, del digitale, si sa, è molto maschile, io sono orgogliosa di dire che ci sono il 50% quest'anno di donne Assolutamente sì, assolutamente sì Girl power! Super contenti, non è stata, è venuta, non è stata una roba imposta, no, 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 esatto, siamo stati contenti quando abbiamo fatto la conta, effettivamente eravamo metà e metà, per cui ottimo Però, giusto per chiarire anche le mie idee, quindi non sono degli hacker, per cui devo nascondere il telefonino prima che mi legano le chat Beh, allora abbiamo qualcuno su quel profilo, qualcuno anche un po' diverso, anche più marketing, perché quest'anno, tutti gli anni abbiamo una tecnologia alla quale, diciamo, cerchiamo di dare poi come tema di sfida ai ragazzi, no? Questa tecnologia cerchiamo di applicarla su dei casi concreti Sì Quest'anno la tecnologia è la blockchain, che di per sé è un po' fumosa, un po' soffre Valuta digitale Esatto, cripto, valuta, certo Quello che stiamo riuscendo a fare con somma soddisfazione è dare concretezza e tutti siamo lì in questo agora, stiamo parlando noi, i marini ragazzi, con le aziende che gli si stanno illuminando gli occhi, perché capiscono effettivamente è un asset tremendo, che veramente può dare un grande impulso in tutti i settori Infatti abbiamo sette sfide diverse, completamente diverse, in sette ambiti diversi, quindi si va dalla GDO al fashion, al vitivinicolo, logistica, insomma, c'è un po' di tutto Ma possiamo vederli questi ragazzi? Eh, io vorrei, sì, sì Io vorrei collegarmi con loro, vedere almeno le loro facce Eccoli Eccoli là Eccoci Ciao, buongiorno Ciao a tutti Ma chi è sto buono? Ciao a Vittoria, ciao a Jacopo Sei lì per sbaglio? Chi è? Come? Sembra il mio allenatore della palestra Eh Ma chi è lui? Lo sapevo Chi è? Pier, presentaci, presentaci un po' chi siete Allora, dunque, intanto grazie mille per il collegamento, benvenuti al blockchain hackathon di Vargroup Sono con Chiara Ciao Chiara Il tag è il nostro partner Ciao a tutti Eccoci qui Partner dell'organizzazione appunto dell'hackathon tema blockchain Dietro di noi i protagonisti dell'hackathon, sette gruppi di ragazzi Che si stanno sfidando appunto nello sviluppo del miglior progetto blockchain multisettoriale Vedono Ragazzi salutiamo un attimo Ciao Allora Siamo nel momento di rush finale, quindi diciamo sono molto focus Concentrati Sì, sì insomma Però ottimo dato è il 50% composto da donne Siamo molto fieri di questo E come dicevo prima siamo nel momento di rush finale Quindi i ragazzi stanno apportando tutte le migliorie al pitch che dovranno presentare alla giuria Che selezionerà il miglior vincitore, il miglior progetto, il vincitore domani Ecco Allora io a questo punto li ringrazio Chiuderei il collegamento con la casa del grande cervello Perché mi sembra evidente Noi ci rivedremo, sono sicura Buon lavoro a tutti quanti E a questo punto io direi che noi ci salutiamo E ti ringrazio moltissimo per essere stato con noi Grazie a te E ci vediamo prossimamente Assolutamente, ciao Grazie, ciao, buon lavoro anche a voi